Benvenuti su Reading Wildlife, episodio numero 29. E questo è un episodio di Halloween, perché uscirà in prossimità di Halloween. Io sono Andrea, qui c'è Angela, quindi siamo sempre il team di Reading Wildlife, ovvero il podcast dedicato ai libri di ambito fantastico di Stenerd, tra cui trovato anche gli altri vari podcast degli altri ambiti, ma noi parliamo di libri. E in quanto puntata di Halloween, a grande richiesta di noi che abbiamo pensato, perché abbiamo dichiarato che sarebbe stata una puntata a tema Halloween l'altra volta, e quindi ci siamo dovuti in qualche modo inventare qualcosa che fosse vagamente assimilabile all'Halloween, perché l'anno scorso avevamo fatto una cosa tipo i libri che ci hanno spaventato. Spaventato. Esatto, quindi se vi interessa questa cosa, per provare qualche brivido, andate a recuperare quella puntata che sarà la numero 8, non lo so, dico a caso. Mentre per la puntata 29 parleremo di mostri, ovvero appunto storie in cui ci sono dei mostri, ma non semplicemente, vabbè, il mostro lo trovate in qualunque average romanzo d'avventura. Noi invece parleremo di libri che sono raccontati dalla prospettiva del mostro. Ora ovviamente utilizzeremo una definizione di mostro abbastanza flessibile, quindi ci includeremo dentro, non lo so, alieni, robot, creature che sono convinte di essere mostruose, magari non lo sono necessariamente in senso fisico, però comunque, diciamo, una prospettiva che non sia del tutto umana o comunque che ci viene resa come qualcosa di differente da quella che sarebbe la prospettiva umana standard. E quindi parleremo un po' di questi anche perché è magari un approccio un po' più interessante che può essere riservato all'interno della, appunto, della narrativa fantastica, speculativa, ci permette di fare questo tipo di cosa che magari in un, non lo so, in un thriller normale, in un giallo, chiaramente è una cosa che è preclusa perché in un giallo i mostri non ci sono e tantomeno ci può essere la prospettiva del mostro. Quindi parleremo un po' di questi titoli, faremo qualche esempio anche in vari generi, quindi dalla fantascienza al fantasy all'horror e quindi daremo qualche spunto se vi interessa leggere qualcosa che dia una prospettiva un po' diversa e che parta appunto da quelle che sono quelli che normalmente sono i mostri delle storie. Quindi partirei dai superclassici, giusto? Sì, allora, io per questo episodio, cioè quando Andrea mi ha detto parliamo di mostri e io ero felicissima perché negli ultimi tempi mi sono un po' lanciata nella theory per quanto riguarda la mostruosità. Questo perché sto aspettando, così faccio subito la pubblicità, il libro che avrei voluto già leggere ma che ancora non è uscito, sto aspettando Monstrumana di Francesca Giro e Gaetano Pagano che sta per uscire per FQ, dovrebbe uscire intorno ad Halloween, che è appunto un saggio sulle figure mostruose della letteratura che nasce come podcast, che devo ammettere è anche un podcast che io seguo e che nel momento in cui mi è stato chiesto facciamo Reading Wild Life io pensavo a quello e a quanto fosse irraggiungibile e infatti ci siamo buttati a fare tutta un'altra cosa dove chiacchieriamo perché non sarei stata in grado. Perché siamo umili. Siamo estremamente umili e soprattutto non abbiamo gli effetti speciali che hanno a Monstrumana perché comparto proprio audio fantastico. Quindi dopo il momento Fangirl, è un periodo in cui per un motivo o per un altro mi trovo a leggere della teoria che parla di mostri e prima di iniziare con ovviamente Frankenstein perché dove altro possiamo andare a parare, volevo presentare così la definizione di mostruosità che dà Rosie Braidotti in Madri Mostri Macchine di cui mi sa che avevo già parlato perché l'ho letto poco tempo fa e quindi c'era nel cosa stiamo leggendo che parla di quella che è la teoria psicoanalitica femminista secondo cui i mostri sono creature metamorfiche niente persa stasera che svolgono una funzione di specchio kaleidoscopico e ci rendono consapevoli della mutazione che stiamo vivendo in questa fase post-nucleare, post-industriale, post-moderna e post-umana. Tutto sto vippone per dire che come la fantascienza di cui di solito si dice che non interpreta il futuro ma parla del presente così anche le figure mostruose alla fine parlano delle paure della società contemporanea per cui secondo me questa è un'ottica in cui vedere le figure mostruose di stasera e comunque tutti quegli archetipi mostruosi che accompagnano la letteratura fin dalle origini. Che poi se vogliamo parlare di definizioni volendo fare anche un'etimologia di mostro questa cosa la so perché l'avevo studiata per un articolo di un po' di tempo fa deriva proprio da mostrare non mi chiedete, sì esatto, la parola latina non la so penso che sia appunto monstrum che sarebbe appunto la cosa che viene messa in evidenza quindi appunto c'è comunque un collegamento tra il mostrare qualcosa e il modo in cui il mostro in generale è qualcosa che mostra o mette in mostra qualcosa più o meno è una cosa del genere non me la ricordo di preciso però adesso lo sapete andatelo a cercare e lo potete vedere meglio Allora aspetta che faccio screenshotta per favore per quando farei il post di Instagram perché voglio venire così col faccione del mostro di questa edizione fissima di Frankenstein che è ovviamente il primo dei mostri di cui parlare la creatura perché Frankenstein è lo scienziato è il dottore, la creatura non ha un vero e proprio nome e mi sa che questa cosa l'abbiamo già detta mille, miliardi di volte comunque secondo me quello che è interessante e quello di cui non abbiamo mai parlato è il fatto che la storia della creatura viene narrata dalla creatura stessa al suo creatore e quindi c'è un agency in prima persona della creatura che dimostra anche tutto il suo disagio nell'essere al mondo e infatti poi alla fine si rivolge a Frankenstein dicendogli sono roba tua sono un tuo problema perché tu mi hai creato questo poi ovviamente come dire nell'interpretazione classica va a riflettersi su quella che è la storia personale di Mary Shelley sul fatto che quando lei ha scritto a 19 anni Frankenstein aveva già subito dei lutti aveva già messo al mondo una bambina che poi che poi era morta dopo dopo poco e questo è uno poi dei traumi da cui è scaturito Frankenstein quindi questo diciamo era l'esempio primario anche perché l'abbiamo detto probabilmente tante altre volte ma Frankenstein è considerato secondo alcuni il punto di origine proprio della fantascienza ovvero di una prima narrazione consapevole di qualcosa di plausibilmente cioè un processo plausibile scientificamente per le conoscenze dell'epoca che porta diciamo a delle conseguenze che poi vengono esplorate nel corso della narrazione quindi insomma meno male Frankenstein c'è una ragione per cui mettiamo sempre Frankenstein qua e là quando capita perché appunto ha un ruolo importante in questo caso quindi ci doveva essere per forza ma peraltro uno dei motivi è anche perché mi piace bullarmi del fatto che il primo romanzo di fantascienza sia stato scritto da una donna ok e questo ci riporta subito al punto secondo ovvero parlando di cose che ci devono sempre essere no in realtà volevo fare un altro collegamento però però me l'hai proprio servita è già arrivato il momento sì sì esatto cose che ci devono sempre essere in questo podcast e per andare all'estremo opposto della narrativa fantascientifica che è stata originata da una donna parliamo subito leviamoci subito anche in questo caso il problema e parliamo del nostro caro Isaac Esimov allora visto che si parlava appunto di mostri intesi come qualcosa di flessibile ovviamente nella fantascienza il mostro può essere spesso identificato con l'alieno e dopo ci saranno anche altri esempi che ho messo io da parte di cui parlare però se appunto vogliamo parlare di una storia in cui gli alieni sono frequenti nella fantascienza e questo lo sappiamo però non è così frequente avere la prospettiva dell'alieno ora forse in tempi recenti è successo di più però per diciamo l'epoca quella dell'età dell'oro della fantascienza e quindi dei testi più classici della fantascienza non era una cosa che capitava spesso se non in casi come quelli di cui parlerò tra un po' nel caso di neanche gli dei di Asimov che tra l'altro secondo me è uno dei romanzi di Asimov che non ha avuto un'edizione recente cioè mentre appunto fondazione impero robot eccetera vengono ripubblicati in continuazione questo romanzo qua che non si colloca all'interno dei grandi cicli di Asimov secondo me ora come ora non si trova tanto facilmente quindi questo è uno dei pochi libri di Asimov che non credo che siano così reperibili magari mi sbaglio me lo sono perso però mi pare di non averlo visto nelle varie riedizioni frequenti di tutti i romanzi di Asimov questo neanche gli dei è famoso appunto soprattutto perché alla seconda parte del romanzo la prima e la terza parte sono ambientati sulla terra vabbè solito giallo thrillerone con persone che parli in una stanza di Asimov ma la seconda parte del romanzo è inventata in un altro universo proprio quindi non è un altro pianeta è proprio un universo adiacente a quello al nostro e i protagonisti sono appunto creature che abitano in questo universo e che sono totalmente inumane non hanno neanche una vera e propria forma cioè sono delle specie di di amebe nel senso non hanno una vera e propria cioè non ci possono neanche definire umanoidi sono proprio un altro tipo di conformazione proprio fisiologica e Asimov li descrive? li descrive abbastanza ma ne descrive abbastanza anche proprio sì esatto esatto infatti è interessante per quello perché qui Asimov ha davvero fatto lo sforzo di immaginare perché gli alieni in Asimov sono cioè forse non voglio dire che non ci siano mai ma non sono quasi cioè non sono sicuramente una delle sue materie di interesse ci sono penso rarissimi tant'è che ci sto pensando non me ne vengono in mente pur avendo letto quasi tutto di Asimov non mi vengono in mente racconti con gli alieni tranne questo in cui appunto c'è una descrizione abbastanza approfondita proprio della fisiologia della dell'ambiente dell'ecosistema poi sono alieni intelligenti comunque non sono animali sono comunque creature senzienti e di come si appunto di come funziona il loro mondo che comunque è in uno stato di crisi perché c'è stato un contatto con il nostro universo quindi vabbè ovviamente c'è tutto il problema da risolvere e una cosa interessante che non ti aspetteresti da Asimov è che questi alieni in questo universo adiacente si potrebbe dire che vivono in una relazione poliamorosa perché sono composti da diciamo compiono dei dei tris ovvero si accoppiano in tre ci sono tre diciamo hanno tre ruoli che ora non mi ricordo di preciso come si chiamano tipo uno è il razionale uno è l'emotivo e l'altro è il non mi ricordo cosa poi non sono esattamente dei sessi o dei cioè si potrebbero definire dei generi che comunque si devono diciamo interporre tutti e tre per non soltanto per riprodursi ma per accedere a un altro stato della loro esistenza diciamo e questo poi è anche una cosa che si svilupperà nel corso della 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 narrazione di questa seconda parte e quindi è piuttosto interessante soprattutto visto dal punto di vista di Asimov di cui appunto per quello che insomma è riconosciuto molto tradizionalista anche sui ruoli di genere eccetera in questo caso invece bisogna dire che ha fatto uno sforzo in più e la cosa curiosa è che tutta questa storia nasce dal fatto che lui aveva sentito non so se una conferenza a qualche parte un qualcuno parlare non so se un attore di fantascienza o un tizio random parlare di un elemento della tavola periodica detto a caso tipo plutonio 280 che ovviamente non potrebbe esistere per quello che è la fisica del nostro universo ma lui ha voluto diciamo lavorare su questo e dire come sarebbe un universo in cui esiste il plutonio 280 ha senso parlare di questa cosa e quindi tutto questo universo e anche il modo in cui interagisce con questo universo deriva da quello da quello spunto iniziale del plutonio con un numero atomico assurdo e quindi il modo in cui lui ha costruito questa cosa il modo in cui il mondo di queste creature che tra l'altro non mi ricordo come si chiamano ora che ci penso ma forse non hanno neanche un nome perché loro appunto sono le creature che abitano il loro universo quindi non è che si definiscono se stesse in un modo particolare e quindi ci ha redato una prospettiva piuttosto curiosa soprattutto considerando il tipo l'epoca in cui questo romanzo è uscito e l'autore dalla cui penna è uscito da cui non ci si aspettano in genere cose del genere quindi appunto secondo me questo in effetti è uno dei romanzi più interessanti di Asimov non farò esempi dei robot di Asimov perché i robot di Asimov in realtà non sono creature che hanno un modo di pensare diverso sono semplicemente delle macchine logiche e quindi non hanno diciamo una collocazione interessante all'interno del discorso che stiamo facendo ora che è quello della prospettiva di un appunto di un mostro comunque di una creatura diversa da quella umana quindi checkpoint Asimov posso guarda se non l'avesse scritto Asimov forse l'avrei letto però allora la terza parte è riconosciuta come piuttosto insomma fa perdere molto il fascino del libro e alzi finisce poi con i due protagonisti che alla fine scopano perché insomma deve essere ah al finale Dan Brown sì 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 esatto esatto cioè l'investigatore e la scienziata quando hanno salvato il mondo alla fine quello che devono fare per computare tutto è farsi una scopata e quindi insomma ritorna a essere il nostro caro Asimov però la seconda parte viene descritta da Asimov tipo in due frasi molto aride sì 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 esatto esatto no perché mi sembra che sono sulla luna sono sulla luna e quindi c'è la gravità bassa e allora dicono tipo ecco la bassa gravità chissà che cosa possiamo fare una cosa del genere non vorrei dire una scemezza ma credo che sia proprio tra le ultime frasi del libro proprio cioè facciamoci riconoscere sempre Isaac e inoltre ecco 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 già che siamo in tema riprese lei è meglio il sesso dell'acrobazia sono d'accordo anche in questo inoltre potresti cercare di imparare lui annui e disse sottovoce se vuoi insegnarmi con esitazione fece un passo verso di lei se lei non si mosse lui smise di esitare aspetta scusa Selene lei si chiama Selene stanno sulla luna eh sì esatto io non voglio sapere nient'altro basta va bene ho bisogno di come dire di basta tiro fuori l'artiglieria pesante dai dai subito mi trovo la carta Shirley Jackson no allora perché perché Mary Mary Kat è qua perché oltre a essere il mio il mio nome su Instagram per cui sappiate che ve la consiglierò per sempre in qualsiasi salsa se poi stasera riuscissi a parlare sarebbe meglio per questo episodio però va così Mary Kat è secondo me abbastanza mostro abbastanza mostruosa da stare in questa in questa lista lei si autorefinisce strega per cui già per questo io la metto nell'episodio di Halloween è una strega empatica ma non è qua per questo ma per meriti ottenuti sul campo posso fare spoiler è un romanzo degli anni 60 sì ok è qua per aver sterminato tutta la sua famiglia e e soprattutto per essere un fantastico esempio di narratrice unreliable cioè non italiano vabbè inaffidabile inaffidabile grazie è una narratrice inaffidabile è anche una narratrice che riesce a raccontarti qualsiasi cosa voglia e a farti credere qualsiasi cosa voglia per tutta la durata del romanzo come al solito quando parliamo poi di libri che mi piacciono tantissimo non riesco a dire niente però abbiamo sempre vissuto nel castello la storia di due sorelle Mary Kat cioè Mary Katrin e Constance che vivono sole nella casa di famiglia dopo che con uno zio con uno zio anziano e un po' un po' fuori di testa dopo che il resto della famiglia è morta inspiegabilmente per come ce la racconta Mary Kat inspiegabilmente tutta la famiglia è morta e appunto la voce che sentiamo la voce che ci accompagna a questa storia è quella di della sorella più giovane che è felice tutto sommato di vivere da sola con la sorella nonostante tutta la città inspiegabilmente li odi le odi e non voglio avere rapporti con con loro è agghiacciante cioè come tutti i romanzi di Shirley Jackson avrei in qualche modo avrei potuto anche usare i laus in cui la casa è il mostro però ci viene raccontata dagli abitanti e non e non da se stessa però appunto è è un archetipo anche lei è comunque l'assassina è comunque con lei che in qualche modo riesce a tagliare completamente i legami con la sua famiglia in maniera molto drastica in questo caso e quindi niente andiamo avanti mi sono persa aiuto tagliare i legamenti della sua famiglia più che legami forse no in realtà in realtà è una morte molto tranquilla perché comunque no non lo so e quindi vabbè lasciamo questo come li avrà ammazzati se non l'avete letto adesso almeno avete questo da scoprire no mi piaceva lo spunto la cosa che hai detto ora del narratore inaffidabile che in effetti potrebbe essere un tratto che si trova in diverse di queste narrazioni dal punto di vista del mostro e forse anzi è la cosa che forse ci può affascinare di più perché appunto il mostro che narra è quello appunto che magari ci dà una prospettiva che non conosciamo che non ci aspettiamo e di cui forse non ci fidiamo del tutto perché mi viene in mente anche per esempio anche Frankenstein no ok noi vediamo quello che lui dice e quello che lui pensa di se stesso però cioè Frankenstein il mostro ovviamente la creatura di Frankenstein però ci si può comunque chiedere se il modo in cui lui vede se stesso e il diciamo anche il il diritto che avanza rispetto al suo creatore rispetto al mondo che lo circonda se sia davvero legittimo perché appunto per esempio mi ricordo ora io l'ho letto credo vabbè 25 anni fa forse quindi lo dovrei un po' rinfrescare probabilmente però mi ricordo appunto il fatto che lui dica questa è una cosa che si è vista anche in tanti film in tanti adattamenti che lui chieda al al dottore di dargli una compagna ovvero di creare un'altra creatura che possa essere come lui e che possa accompagnare che sia sua di diritto quindi ci si può anche chiedere ma questa pretesa del mostro è legittima noi la leggiamo dal suo punto di vista dal suo punto di vista è legittima però appunto siamo davvero diciamo stiamo davvero vedendo il mondo a terzo i suoi occhi e quindi è una visione distorta oppure questo è davvero il messaggio che la storia ci vuole dare e quindi farci vedere che questa sua pretesa invece è giusta secondo me questo che già si trova lì è una cosa che si trova in tante di queste storie dal punto di vista del mostro forse è proprio il punto che può essere più interessante di questo tipo di narrazione ovvero quello che vede il mostro è giusto o è appunto una visione mostruosa da cui dovremmo cercare anche non necessariamente di prendere distanze ma comunque di diciamo di interpretare e di non prenderla soltanto per quello che ci vuole narrato ma di capire un po' quali sono i livelli di lettura che questa cosa ci vuole dare attraverso appunto la scrittura attraverso quello che lo scrittore ci vuole dire quindi questa secondo me ora mi è venuta in mente ora però potrebbe essere una chiave di interpretazione un po' di tutto il discorso a mio avviso mi sono venute in mente due cose a partire da questo tuo discorso una è un libro che ho letto poco tempo fa che si chiama Mostri in terapia del saggiatore non mi ricordo assolutamente l'autrice che è un divertismo niente di più in cui ci sono quattro personaggi della letteratura gotica che vanno a fare psicanalisi e uno dei personaggi cioè il primo è il dottor Jekyll e mister entrambe le personalità di Jekyll e ci sono Carmilla e la la sua compagna e poi arriva il mostro di Frankenstein che però finisce per fare terapia con il dottor Frankenstein e con la la promessa sposa di lui per cui c'è questa seduta che diventa proprio terapia familiare in cui vengono messe in evidenza tutti quelli che sono i traumi delle varie figure e peraltro mi sembra che proprio anche nel romanzo di Schilly il dottor Frankenstein indica che lui non vuole dare una compagna alla creatura perché non vuole che vengano messe al mondo altri mostri e quindi dare via a una prisione di mostri e poi l'altro pensiero che mi è venuto in mente sul credere o meno alla visione del mostro è legato un po' a quella romanticizzazione del serial killer che vediamo prevalentemente su altri media perché mi vengono in mente per esempio le serie di Netflix Dahmer che ha fatto un successo spaventoso e comunque tutta questa passione per il true crime che sia più o meno a cavallo tra il documentario e la fiction in cui però molto spesso poi queste queste figure come dire vengono poste come antieroi cioè più che come villain tutta la carriera di Evan Peters è costellata di personaggi che sono più o meno assassini matti omicida e quindi sì cioè nel senso secondo me c'è un po' anche questo rischio anche per via della strada che hanno preso i retelling per cui sempre questo cercare di dare delle motivazioni dietro ai personaggi negativi che a volte ci sta a volte no io qua poi ne ho uno per cui ho Wicked di Gregory Maguire che è la storia della strega dell'est dell'ovest io una vabbè la strega dell'ovest che nella nella saga di libri di Baum non ha neanche un nome qua gli viene dato un nome che è Elfaba L-F-B dalle iniziali appunto di Frank Baum e Baum Baum questo è un esempio di uscito di come dare tridimensionalità a un personaggio che nel romanzo è semplicemente la villain la cattiva per antonomasia però ecco secondo me è anche diverso farlo su dei personaggi della fiction dei personaggi che nascono sulla carta e farlo con comunque delle persone realmente esistite soprattutto dei serial killer io sono toscana e la Pacciani Wave mi piace tantissimo però ogni tanto ricordiamoci anche che insomma sì anche mi viene in mente anche quando sono fatti relativamente recenti per cui ci sono diciamo ancora magari ci sono ancora cose da da scoprire o comunque persone ancora coinvolte che potrebbero insomma non avere molto come nel caso di Damer mi sembra ci siano state delle insomma delle giuste recriminazioni da chi c'era ancora un po' aveva sì comunque le famiglie delle vittime perché molto spesso almeno io ho letto spesso questa critica a chi critica le serie dicendo beh ma c'è il diritto all'informazione c'è il diritto a raccontare le storie certo è innegabile però c'è differenza tra per esempio un documentario e una serie fictionalized in cui comunque il focus è più sulla persona che uccide che sulle persone che sono state uccise sì 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 per cui ecco quindi un modo sano un modo sano invece di soddisfare questa passione per i mostri magari invece è quello di leggersi la storia della strega dell'ovest oppure appunto gli esempi di questi personaggi classici diciamo proprio della letteratura che vengono reinterpretati uno dei più famosi è quello di Grendel di John Gardner John credo che sia che appunto potremmo chiamarlo retelling non lo so adesso è tutto retelling però appunto è la storia dello scontro tra Beowulf e Grendel quindi appunto questo scontro epico della mitologia Norren eccetera eccetera visto dal punto di vista del mostro che poi nella storia originale ora io diciamo non ho letto l'epopea di Beowulf però più o meno conosco di che cosa si tratta e in quel caso Grendel è un mostro quasi appunto archetipico appunto non è come si potrebbe pensare appunto il il villain di una storia moderna che comunque non è Thanos del appunto dell'Infinity War che comunque ci dice che ha le sue motivazioni lui sta facendo questa cosa quindi quella cosa molto sfaccettata no è un cazzo di mostro gigante e cattivo e solo quello quindi appunto in quel caso raccontare la storia come viene vista da quel punto di vista lì è comunque un esercizio interessante fatto appunto anche su una figura che fa parte della mitologia su cui appunto non c'era questa grande diciamo sottilizzazione del profilo psicologico del mostro quindi in quel caso è qualcosa sicuramente di un po' qui si parla di un testo che ormai è diventato già un classico anche questo che però appunto fa questo esercizio che forse oggi è diventato quasi non voglio dire banale però insomma molto diffuso appunto con questa storia di retelling tra cui quello di cui ci stia per parlare ah sì ah ah sì non lo so ne ho più ho tutti i retelling qua credo tu intendessi questo che è Melis di Heather Walter tradotto da Silvia Costantino appena uscito per Mondadori che è un retelling saffico della bella addormentata nel bosco in cui quella che conosciamo come malefica qua si chiama Elis Melis Elis che è una grazia oscura diciamo che qua viene ripreso un po' il sistema delle fate delle fate madrine ognuna con la sua col suo apporto ognuna con le sue specialità le grazie oscure sono ovviamente le portatrici della magia nera quelle cioè quel tipo di fata che ha maledetto Aurora quindi l'ultima della stirpe della stirpe reale non Elis in particolare ma delle sue insomma delle grazie oscure come lei per cui diciamo che si crea questo questo legame tra Elis e Aurora che non dovrebbe esserci perché ovviamente una è la cattiva l'altra è la principessa e da lì si creano nuove relazioni è un po' la stessa cosa che è stata fatta a suo tempo con Maleficent della Disney che secondo me è l'unico dei film sulle origini dei villain che possa avere un senso il primo il secondo mi sono rifiutata di vederlo perché comunque mette in atto delle buone dinamiche trasforma il rapporto di antagonismo in un rapporto madre figlia che è un po' tirata ma certo sempre perché stiamo parlando della Disney però però ci sta non so come pormi nei confronti di questo libro di Malice non l'ho ancora letto lo leggerò a breve perché comunque mi intriga sicuramente è un retelling che non so 15 anni fa non avremmo visto per le tematiche per come le presento e tutto il resto e quindi da una parte mi viene da dire che questa nuova monster wave comunque cioè il mostro è sempre stato considerato il contrario della normalità quindi cioè il grado zero della mostruosità come dice Rosy Braidotti è la normalità è la cosa più diffusa che di solito appunto nella nostra società essere maschio bianco etero e e almeno della media borghesia il mostro è sempre stato il diverso e e quindi tutto so che devia la devianza viene presentata in questo modo da questo punto di vista Malice mi dà delle ottime vibe perché comunque appunto questa figura della grazia oscura va poi a incarnare non solo la strega cattiva quella che siamo abituati a vedere ma appunto una serie di devianze anche dalla storia per come ce l'hanno raccontata finora ok no stavo pensando due cose una intanto meno male che non sono della media borghesia ma che sono un povero proletario così così almeno almeno una a me spiace ma io sono stata radicalizzata dal mostruoso femminile ho delle citazioni che non tiro fuori perché ti voglio bene posso capire e la seconda appunto vabbè ora parlavi del hai fatto l'esempio anche di Maleficent anche del film quindi lei diciamo mi viene in mente che c'è tutta una serie che è uscita che sta uscendo ancora credo che si chiama proprio Villains forse quella delle storie che poi aspetta non sono della prospettiva è tipo sono le storie i classici Disney esatto se avesse vinto il cattivo ora magari non si parla strettamente di mostri perché alcuni sono semplicemente degli umani magari un po' stronzi però no però per esempio c'è uno dedicato alla sirenetta e quindi Ursula esatto in quel caso si può parlare di mostro mentre comunque credo che nella storia dei classici Disney 70-80% delle Villain siano donne cioè vabbè ma perché se l'eroina la principessa la contrapposizione della principessa è la per forza quindi c'è questo è quasi fisiologico sì no perché ci piace far vedere le donne che combattono fra di loro perché il catfight le donne sono le peggiori nemiche delle donne vedi Ursula è la sinistra esatto esatto purtroppo la narrazione è quella mentre se vogliamo aspetta perché avevo una cosa che no che non c'entra niente in realtà quindi no io volevo volevo passare invece avevo fatto prima gli accendi agli altri agli alieni mostri no perché appunto anche quello se si passa ora abbiamo fatto un discorso un po' del mito della delle storie insomma magari anche un po' fantastiche così se invece come avevo iniziato il primo discorso si torna alla fantascienza e la fantascienza appunto il mostro tipicamente è l'alieno che può avere una forma mostruosa e questo è stato uno dei diciamo anche dei capisaldi della fantascienza quella storica soprattutto se si pensa appunto alla spesopera planetari romans in cui abbiamo l'eroe che combatte i mostri che poi sono alieni ma insomma sostanzialmente sono mostri e c'era il classico proprio il troppo del bug-eyed monster il BEM ovvero il mostro insettoide con gli occhi da insetto e quindi quella è una cosa che nella età dell'oro della fantascienza si è vista centinaia di volte all'interno di queste sterminate narrazioni sui romanzi sulle riviste pulp di questi mostri qui si trovava ogni tanto anche la storia dalla prospettiva del mostro e voglio fare due esempi di questa cosa qui proprio ultra classici e proprio che fanno la base di questa cosa mi è venuto in mente un libro da citare dopo su sta cosa che secondo me ci fanno chiudere il programma però ok dai segnatelo allora uno è credo di averlo già fatto vedere questo già citato la aiuto la crociera nell'infinito di Alfred Van Vogt che può essere anche i viaggi della Space Beagle a seconda della traduzione che è una serie di racconti appunto di questa astronave che visita i vari mondi e su ognuno di questi mondi c'è poi un qualche creatura aliena che vuole comunque sterminare tutto l'equipaggio ma la cosa interessante appunto è che in tutte queste storie c'è ci sono appunto il nostro manipolo di eroi ma c'è anche sempre anche qualche capitolo dal punto di vista del mostro ed è interessante perché Van Vogt scriveva delle storie comunque molto cariche d'azione pieni di colpi di scena quindi il valore principale di queste storie è sempre la tensione tenere la tensione alta quindi in questo caso il punto di vista del mostro è quello che si vede classico dei film horror in cui vedi tipo la telecamera che segue il protagonista che sta per essere accoltellato quindi serve un po' a dare quella funzione quindi farsi l'attenzione e far vedere che il mostro sta per raggiungere i nostri eroi però la cosa che faceva interessante Van Vogt era quella di dare anche una sorta di etica a questi mostri ovviamente non dico etica nel senso non sono creature del tutto sensienti anche se comunque ne seguiamo un po' il filo dei pensieri un po' il flusso di coscienza però appunto capiamo che questi mostri ad esempio nel racconto più famoso di tutta questa serie qua che è il distruttore nero che lo si può considerare un po' la storia da cui poi è nato un po' il concetto di alien in tutto il film che c'è appunto questa creatura che vuole cacciare gli umani che sono entrati nel suo terreno non perché appunto per questioni territoriali o perché si deve nutrire o perché ma semplicemente perché ha bisogno dell'essenza cioè è soltanto una creatura che consuma tutte le essenze intorno a sé e proprio ne percepisce la forza il valore come se vedesse un diciamo tipo qualcosa che brilla e di cui ha bisogno e quindi appunto è qualcosa comunque di abbastanza inedito rispetto a quella che era un po' la concezione del mostro che ti mangia perché sei perché ti deve mangiare o soltanto perché vuole uccidere quello che ha davanti in questo caso c'era appunto una motivazione quasi fisiologica profonda proprio un bisogno profondo a cui questa creatura e anche altre successive rispondono e devono insomma devono soddisfare e qualcosa di simile lo fa anche John Campbell uno dei grandi curatori della fantascienza e che sicuramente ha anche influenzato Van Vogt nella sua insomma nella sua creazione di quelle storie perché era l'editor di mi ricordo sia Amazing Stories o comunque una delle grandi riviste pulp su cui sono cresciuti tanti autori classici della fantascienza e il suo racconto storico Who Goes There che in italiano di solito è la cosa dell'altro mondo e fa più o meno la stessa cosa e questo è la storia su cui da cui si è basato poi per il film la cosa dell'altro mondo ma anche la cosa quello che conosciamo tutti di Carpenter il film appunto con gli scienziati che sono in Antartide c'è il mostro muta forma eccetera nel nel film non si vede tanto questa cosa ma nel racconto originale di Campbell ci sono dei capitoli in cui vediamo appunto anche il mostro quindi la cosa in questo caso che che si muove e che vede gli umani dal suo punto di vista e però è una cosa diciamo abbastanza limitata però questo la cosa di Campbell e o Carpenter è stata poi espansa in un racconto più recente di Peter Watts che volevo vedere di che anno era vabbè questo è del 2012 quindi potrà essere di qualche anno prima si trovava su un numero di robot il numero non si vede qui il numero 65 un racconto che si intitola Le cose e che secondo me è molto interessante perché appunto è come se fosse proprio il retelling di la cosa visto tutto dal punto di vista della cosa e secondo me molto questo a me è piaciuto molto perché davvero qui ci dà una prospettiva davvero aliena sul mondo perché si intitola Le cose perché questo mostro che se conoscete il film se avete visto quello è appunto un mostro muta forma che tende ad assorbire le altre creature e appunto non ha una sua forma definita non ha una sua essenza diciamo di cui riconosce i confini e quindi ha difficoltà a capire il fatto che le altre creature che sono poi gli umani che sono in questa stazione abbiano invece vogliono preservare la loro essenza la loro identità e unità per lui appunto quindi è così è strano il concetto che ci siano delle cose cose diverse cose separate e questa contrapposizione tra la cosa che ritiene di essere appunto essendo quello il suo mondo e quindi ritiene che quella sia la dimensione normale di vivere nell'universo non capisce il linguaggio e la natura delle cose che sono gli umani che invece stanno cercando poi di difendersi e di ucciderla e quindi secondo me questo è uno dei retelling se possiamo definirlo così dal punto di vista del mostro davvero azzeccato perché poi se appunto lo confrontiamo con quello che sappiamo soprattutto dal film che è molto famoso riusciamo a vedere davvero una prospettiva diversa e secondo me è molto interessante e mi piaceva appunto fare questa contrapposizione che secondo me è il modo efficace in cui si dovrebbe portare proprio il punto di vista del mostro ecco mi viene da dire che quando noi esponenti del maledetto politicamente corretto diciamo che è importante che tutte le soggettività possano raccontare le professorie possano narrare dal loro punto di vista è un po' per il motivo della cosa e delle cose cioè quando hai modo di spiegarti quando hai modo di portare il tuo punto di vista diciamo che diventa anche più facile generare empatia negli altri e far capire appunto ciò che vivi tu ecco detto a questo adesso mi sono aperta avviate empatia e ricordatevi che io comunque ero adolescente in quegli anni terribili tra il 2000 e il 2010 perché con questa storia degli alieni poi la parola alieno di per sé significa altro per cui mi è venuto in mente il meno meno peggiore dei romanzi di stephanie meyer meyer l'ospite l'ospite che io ti vero ho adorato io quando l'ho letto la prima volta ero giovane adolescente ancora non avevo letto asimov che comunque non l'ho letto neanche dopo però mi è piaciuto tantissimo proprio perché riesce a a darti questo punto di vista peraltro duplice perché là c'è la protagonista che ha dentro di sé l'ospite il vagabondo si chiama com'è il vagabondo si chiama l'ospite mi sembra no com'era oddio questo ce l'ho letto veramente perché vabbè non mi ricordo non mi ricordo però quello per esempio è un secondo me funziona bene è un ottimo esempio sì sì ma infatti allora io non ho letto il libro ho visto il film ma anche io parlo appunto ovviamente di quell'epoca lì quindi non me lo ricordo nel dettaglio però mi ricordo che pur essendo molto incentrato ovviamente sulla parte eccetera va bene però comunque aveva un concept secondo me non non banale per quel tipo di storia quindi se ti hai letto il libro ovviamente il target è sempre quello diciamo adolescenziale ecco sicuramente certo quindi non ci si può insomma aspettare il livello di approfondimento di altre cose poi comunque ha un sacco di problemi proprio di concezione del mondo fuori la prendiamo con le pinze però però ecco e da questo dall'aggancio di perché io penso al film mi ricordo che più o meno nella stessa epoca uscì anche il film Warm Bodies che non che non so però era basato era basato sul romanzo che ho ovviamente letto perché sia mai che me ne faccio sfuggire uno e anche quello secondo me era molto leggero era anche abbastanza diciamo umoristico mi verrebbe da dire però secondo me anche lì il concept non era male perché comunque lì era gli zombie visti dal punto di vista degli zombie di un mondo che ormai ha avuto un'invasione zombie incontenibile e anche lì ci sono gli zombie che si innamorano e vabbè però ecco anche quello era curioso l'idea non era male poi c'è il finale tipo the power of love questa onda di amore che scaturisce dal bacio e che trasforma tutti di nuovo in esseri umani insomma mi sembra un po' però sì era il fantastico periodo in cui tutto diventava romantico e tutto diventava sexy vampiri zombie licantropi fantasmi però appunto rimanendo sugli zombie che sono un altro mostro classico proprio del monsterverse mi viene in mente di citarne altre due c'è un racconto di Claude La Lumière che si trova in un'antologia di future fiction che l'antologia credo che sia altre persone e il racconto è il trattamento etico della carne che racconta appunto di un mondo che anche qui ormai è stato diciamo c'è stato un apocalisse zombie ma gli zombie ormai sono appunto gli abitanti principali del pianeta e gli zombie allevano gli umani perché hanno bisogno degli umani per mangiarli e quindi c'è anche una sorta di appunto movimento per il trattamento etico degli umani come se fossero appunto i nostri schiame la voce è degli zombie esatto degli zombie e appunto di zombie ora non mi ricordo è scritto proprio tipo in forma di articoli proprio di zombie attivisti che vogliono comunque che la carne nel senso gli umani vengono trattati in modo degno perché comunque sono quelli che meritano comunque la loro dignità eccetera quindi questo è un altro è fatto appunto questo in modo un po' parodistico un po' satirico sicuramente però comunque è carino e un'altra storia simile che parla di zombie in un certo senso anche se non vengono mai chiamati in questo modo è La ragazza che sapeva troppo o The Girl with Old Gips a seconda di la traduzione di cui c'è stato anche il film che appunto è narrato dal punto di vista di possiamo chiamarlo zombie perché sono zombie fungini zombie derivati da un'infezione tipo quella del cordyceps che come sapete bene è il fungo quello che infesta le formiche le fa insomma vabbè la sapete la storia però trauma esatto quando si è scoperta ha dato origine a centinaia poi di interpretazioni questa è una di quelle forse più famose ma la cosa interessante è qui che oltre a essere uno zombie è anche una bambina quindi appunto è una e la cosa interessante è che all'inizio della storia è una bambina di cui ora mi sfugge il nome forse perché ha a che fare con Pandora anche il titolo quindi non so se si chiama una cosa del genere vabbè ora non me lo ricordo e il la cosa appunto è che all'inizio della storia lei e altri come lei vivono in un istituto che cerca tipo di educarli di studiarli e quindi loro vivono in un mondo appunto molto contenuto molto sotto controllo in cui gli umani ancora sopravvissuti quelli che stanno cercando di resistere a questa invasione cercano appunto di capire come eliminarli sostanzialmente però loro non ne hanno la percezione loro sono bambini normali che ragionano come bambini e che non sanno neanche di essere diciamo figli di questa infestazione e quindi appunto qui c'è il doppio punto di vista perché è il punto di vista di un mostro che non sa di essere un mostro in un certo senso rispetto agli umani con cui ha a che fare e da cui cerca magari anche un rapporto normale poi sono bambini quindi magari hanno degli insegnanti per cui hanno rispetto per cui hanno anche dei sentimenti però da cui vengono trattati in modo diciamo da mostro e quindi qui lo scarto è anche doppio e secondo me nel romanzo si sente molto di più rispetto a poi la resa che è stata fatta nel film e secondo me appunto è abbastanza interessante partendo da una tematica quella dello zombie che comunque è stata affrontata in centinaia e centinaia di volte di cui forse è rimasto poco da raccontare ma in questo caso mi pare che sia stato fatto un esercizio valido ma è rimasto poco da raccontare non lo so perché comunque è una delle figure che più si presta a essere metà sì sì ma è certo certo cioè un paio d'anni fa è uscito per codice edizioni febbre di Ling Ma che poi in originale Severance quando è uscita la serie io pensavo che si tratta dal romanzo risultatissimo invece è tutta un'altra cosa fuori di testa anche quello e secondo me lì è molto giocato in chiave millennial però gli zombie funzionano sempre bene soprattutto sì sì certo valore allegorico dello zombie poi però puoi giocare sempre nel 2022 ancora ci portiamo avanti The Walking Dead per qualche strano motivo però quello insomma è un problema della EMC ragazzine mostri istituti la mia ultima proposta di stasera è Medusa di Martin Desjardins allora la ragazza la protagonista si chiama Medusa perché in maniera un po' alla cenerentola questo nome le viene dato dalle sorelle pensando alle meduse le meduse animali però c'è tutta una si gioca con questo su questo doppio binario perché comunque c'è tutta questa ragazza ha un problema agli occhi che non viene mai spiegato viene sempre descritto attraverso l'orrore e lo schifo delle persone che per errore la vedono in faccia la vedono negli occhi per cui questa ragazzina inizia a portare i capelli davanti al viso e a camminare a testa bassa le sorelle dicono che sembra una medusa dopo essere stata all'acquario questa ragazza viene portata in un istituto proprio perché la famiglia ha così tanto ribreggio di lei da non volerla in casa e questo è il punto in cui sono arrivato oggi pomeriggio perché l'ho iniziata a leggere oggi pomeriggio però è veramente una delle scritture più gotiche che abbia letto negli ultimi anni è un romanzo contemporaneo è stato pubblicato l'anno scorso da Alter Ego però c'è veramente tutto quello schifo del corpo femminile che comunque è un troppo dell'horror dai tempi di Carrie e ancora prima e qua mi gioco la citazione di Jude Ellison Sally Doyle che dice un mostro è un corpo che avrebbe dovuto essere sottomesso ma che è diventato una smisurata minaccia un mostro è una donna che si è sottratta al controllo anche i cani si sottraggono al controllo a un certo punto e questo è cioè questa è la storia proprio di una ragazza che sta diventando donna e del ribrezzo che fa alle persone intorno a lei è stata è stata una scoperta abbastanza insomma sconvolgente proprio fresca fresca stavo pensando ah io avevo mi hanno segnato gli altri titoli perché appunto quando facciamo queste insomma questi temi trasversali l'idea è quella di dare un po' una paramamica di vari insomma di vari generi varie cose ora ovviamente come ben sapete io sono abbastanza ferrato e conoscitore dell'ambito della fantascienza speculativa eccetera meno molto meno del fantasy soprattutto il fantasy classico però ho detto vabbè però qualche spunto anche nel fantasy ci sarà di questa roba e quindi ammetto che mi lo sono andato a cercare perché voglio dire dai diamo anche qualcosa perché magari chi segue vuole avere anche qualche spunto in questo senso in quell'ambito lì quindi ho trovato tre cose secondo me interessanti e carine che magari qualcuno conosce qualcuno o no però le voglio suggerire giusto perché mi sembra insomma in linea con l'argomento e perché ho trovato appunto un filone che è quello delle creature mitologiche cioè no mitologiche delle creature classiche del fantasy quindi appunto quelle che si trovano in tutte le storie in tutti i film e in tutte le campagne di Dungeons & Dragons che appunto sappiamo sono insomma gli elfi i nani gli hobbit gli alfing e poi ci sono comunque quelle che sono creature di solito considerate mostruose cioè i nemici quindi dopo i ratti che sono il primo nemico che trovi a un certo punto arrivi a trovare i globulin gli orchi e i jinn e ci sono effettivamente dei romanzi raccontati dal punto di vista anche di queste di queste creature qua intese proprio come le creature malefiche che sarebbero in questo tipo di insomma di storie o di giochi ad esempio appunto c'è tutta una serie di Jim Jim C. Hines che tra l'altro allora questa serie non si trova in italiano però lui c'è un altro suo romanzo che è Libriomancer che è una storia di tipo di un praticamente di una una specie di maghi che possono evocare le cose che sono nei libri e questa invece si trova in italiano io non l'ho letto ma ce l'ho e questa è una serie che è incertata sui Goblin in particolare su un Goblin che è proprio tipo il peggiore della sua specie il più netto il più stupido di tutti che si chiama Goblin Quest che poi ha dato origine a una trilogia che poi c'è Goblin Hero Goblin War che è appunto la storia di questo stupido Goblin appunto un ragazzetto Goblin che si trova poi coinvolto in grandi quest da parte del del gruppetto di eroi che in qualche modo lo tira dentro e di cui lui poi deve far parte di questa della classica quest eroica proprio proprio quella da RPG poi un'altra serie appunto quella con il Gin è la serie di Bartimeus mi l'ho solo segnato mi parli sì di Jonathan Strud che è un autore fantasy abbastanza conosciuto e che ha fatto una serie che conta tra l'altro mi pare 4-5 romanzi che sono questi si trovano in italiano ora non mi sono segnato i titoli ma la trovate così come la serie di Bartimeus ah ok tipo l'occhio di Samarkand esatto sì quella lì esatto ok non mi ero segnato quello penso che sia tipo il terzo e il quarto che appunto è la storia che c'è il mago evocatore e il Gin è raccontata da entrambe i punti di vista il Gin che viene cioè il genio praticamente che viene evocato all'inizio della storia che arriva da questa dimensione in cui si trovano loro e quindi da una parte vediamo lui che segue le indicazioni del mago che è l'avvocato e dell'altra il mago che comunque deve appunto anche lui svolgere le sue missioni perché deve avanzare di carriera eccetera e quindi vediamo la storia che si svolge da entrambe i punti di vista anche questa visto che è abbastanza apprezzata e poi invece le figure anche degli orchi ovviamente sono abbastanza molto presenti nell'ambito del fantasy un po' forse abbiamo parlato nella puntata quando parlavamo esatto perché negli anelli del potere c'è comunque poi non so come è andata a finire quella cosa se è stato sviluppato davvero quella cosa della cultura degli orchi è stato sviluppato qualcosa negli anelli del potere non lo so io non ne so niente non l'ho visto risolvetevela voi non mi interessa però amiche amici a cui è piaciuto gli anelli del potere io mi fermo qua ho vista tutta la prima stagione mi fermo qua bravi voi però ne abbiamo già parlato in un'altra puntata quindi eventualmente rifaremo il crossover se dobbiamo concludere l'argomento però c'è una serie che si chiama Grunt che è il classico nome da orco di Mary Gentle che secondo me è simpatica anche perché appunto è una storia narrata dal punto di vista degli orchi che sono proprio gli orchi stupidi che sono in prima linea che sono quelli che vengono abbattuti continuamente ma lo spunto curioso qua è che all'inizio della storia questo gruppo che è tipo un piccolo reparto di orchi trova che ovviamente sono nel classico mondo fantasy quindi con le armi le armature eccetera loro trovano un tipo un deposito di armi moderne quindi di di fucili di metagliatrici di elmetti di veicoli eccetera e quindi iniziano a usare questi e ovviamente questo li pone piuttosto in vantaggio rispetto ai loro nemici naturali nel mondo fantasy e da lì poi questa è una serie diciamo abbastanza comunque che è questa parodistica principalmente che però parte da un punto insomma da uno spunto secondo me comunque curioso e ci fa vedere un po' la vita dal punto di vista della carne da macello di cui di solito ci troviamo a leggere o a giocare o a vedere in altre situazioni quindi questo era il mio apporto nel mondo del fantasy dell'epic fantasy del live fantasy vi ho dato anche le vostre insomma vi ho dato qualcosa anche per voi amanti di questi generi quindi non potete dire che discriminiamo il genere fantasy all'interno del podcast oddio ci assemblava una riserva c'è della serie adesso per sentare pure voi no non è vero comunque io ho avuto cose che un po' ah ne ho uno nella sezione cosa stiamo leggendo che piacerà ai fan di Harry Potter e la bussola d'oro così accontentiamo anche loro direi che con i mostri abbiamo abbiamo finito penso abbiamo fatto anche approfondimenti filosofici anche abbiamo fatto quindi insomma mi sembra che il nostro compito per Halloween lo abbiamo svolto posso dire che il mostro è negli occhi di chi guarda visto che me l'ero segnata a inizio episodio e ancora non l'avevo detta e passiamo tu stai leggendo la stessa cosa da tipo sei settimane e mezzo no ho passato no sono sono ancora nell'inception delle letture lasciate a metà perché devo leggere un'altra cosa perché ora sto leggendo in preparazione alla prossima puntata del podcast che abbiamo già annunciato quella in cui avremo ospiti di riguardo e quindi sto leggendo spine di Franci Conforti che avevi già citato te l'avevamo citato nel podcast si era nel pool esatto io appunto l'ho preso visto che avremo ospite credo nella prossima puntata proprio tra due settimane più o meno anche se dobbiamo ancora definire dettagli però se tutto va bene avremo ospite sia lei sia Dario Tonani e quindi sto leggendo adesso questo sono a un poco meno di metà che diciamo è una storia che potremmo definire biopunk molto bio perché il prefisso bio ricorre in maniera abbastanza pesante appunto in questo mondo cioè sulla terra che si sorge sulla terra ma in un'epoca in cui comunque l'umanità si è diffusa anche nello spazio e su altri pianeti e si è anche differenziata in varie diciamo sottospecie ci sono gli umani diciamo originali che si chiamano nativi che sono quelli diciamo non potenziati umani geneticamente semplici umani e poi ci sono invece gli evoluti che sono umani che invece attraverso l'ingegneria genetica si sono sviluppati in altre direzioni anche se per il momento sono stati solo citati non sono ancora apparsi in scena quindi non so bene quali caratteristiche e poteri abbiano però si capisce insomma che sono una razza anzi una specie superiore che quasi non si mescono agli umani normali e c'è diciamo tutto un la storia si svolge sostanzialmente come un thrill perché la protagonista viene coinvolta in una specie di ribellione che cerca di riaffermare i diritti sia degli umani appunto di questi umani originali sia degli animar che sono questi praticamente degli animali sempre geneticamente modificati per essere intelligenti ed accompagnare gli umani per fare sia lavori diciamo manuali sia proprio compagnia e quindi appunto la protagonista che è proprio un attivista di diritti di questi animar poi si ritrova coinvolta ancora non si è capito bene quali sia proprio il motivo per cui è ricercata però insomma ci sono varie forze in gioco che sembrano volerla catturare e quindi vedremo come va avanti però ecco il modello su cui si costruisce la storia è un po' questo come ambientazione secondo me è abbastanza interessante vedremo se poi la storia si sviluppa in un modo perché per ora siamo alla fase di fuga del protagonista che deve ancora capire che cosa sta succedendo vedremo se poi la promessa viene soddisfatta io invece siccome quando starete ascoltando questo episodio io sarò ahimè in viaggio verso Luca Comics con tutto il peso dei miei 31 anni non so se sopravviverò per cui sì nel prossimo episodio sicuramente parleremo con Franci e con Dà cioè tu parlerei con Franci e con Dario io prima devo tornare viva dal fine settimana a Lucca ma sto leggendo Oscuri Talenti di JM Miro che sarà ospite a Lucca questo questo fine settimana e quindi in preparazione ho iniziato ormai ho quasi finito Oscuri Talenti che appunto come dicevo è la lettura perfetta per chi ha amato Harry Potter la bussola d'oro per chi comunque ancora vorrebbe frequentare una scuola una scuola di pseudomagia per quanto qua si viri molto più sul dark rispetto a una Hogwarts o una Oxford un Oxford di lira infatti il titolo originale e un po' mi dispiace che l'abbiano cambiato devo ammettere è Ordinary Monsters per cui torniamo in ambito mostri insomma te l'ho detto che è un periodo che giro perché i due protagonisti principali sono due ragazzi che hanno due talenti che sono uno è un po' nebuloso quindi ancora non lo spiego ma l'altro è diciamo è il Wolverine della situazione per cui ha questo potere rigenerativo totale tendenzialmente non può morire viene viene salvato dalle persone incaricate di portarlo alla scuola proprio perché viene giustiziato in un paesino dell'America e non muore non muore e quindi si rendono conto che forse c'è c'è qualcosa di strano è un libro che si prende assolutamente tutto il tempo di cui ha bisogno per introdurti i personaggi introdurti l'ambientazione c'è questo spostamento è un po' ambientato in America un po' ambientato in Scozia per cui è tutto molto vittoriano siamo a fine 1800 però c'è anche questa diciamo ventata di novità dell'ambientazione americana che in realtà non è molto sfruttata se non nell'ambito del western che però tutto sommato anche lì non è che di western se ne trovino molti in questo momento per cui sì è sicuramente un libro mondo è sicuramente un libro che coinvolge molto perché appunto ci ci tiene a farti entrare a farti entrare nell'ambientazione questo è un po' un centinaio di pagine ma ma perché oltre a essere vecchia non ho tempo per leggere per cui preferirei stare sotto le 700 pagine però per il target che ha che secondo me non è proprio un target young adult ma non è neanche la trentenne come me ha moltissimo potenziale non vedo l'ora appunto di sentire come ne parlerà l'autore perché si sente che c'è molto dentro c'è molta filosofia c'è molto pensiero sul mostro e basta direi che abbiamo concluso e ci stanno a me i ringraziamenti tocca a me allora ringraziamo tutte e tutti visto che ci avete seguito in questo episodio mostruoso e l'appuntamento è tra due settimane con Dario Tonani e Franci Conforti se ci confermeranno ma immagino immagino proprio di sì e se siete a Luca questo fine settimana cercate tanto non mi troverete però cercatemi perché ci sono 75.000 persone oh poveri noi ho fatto anche frizzare Andrea dalla disperazione no no ci sono no no perché io mi 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 gongolo del fatto che non sarò pur essendo a 20 minuti da Luca ma non ci andrò non ci andrò cioè se siete a Luca piuttosto ditemi guarda sono da Luca ci troviamo a fare una bevuta la sera qua ma non verrò mai a Comics almeno quest'anno l'anno scorso ci sono stato quest'anno un anno se no non ho per me andrea è saggio io no questo è il problema non solo sono una fan di Tim Burton che è il motivo principale per cui andrò a Luca sto peggiorando la mia situazione ciao alla prossima ciao